Allora Ok Ehi gente Insieme all'aggiornamento contenuto V10.20 abbiamo portato alcune modifiche al gioco Scoprite più sotto cosa vi aspetta Più sotto Scoprite più sotto cosa vi aspetta Armi oggetti In magazzino Oggetti tolti Fucile pesante da combattimento A.k.a. Combat shotgun Fucile pesante a tamburo A.k.a. Drum shotgun Basta trovare su 10 partite di torneo 7 volte questa come arma iniziale E non trovare più pompa per tutta la partita Meno male Poi lanciare di prossimità Levato Finalmente Era un pelino Appena Sgravo ma Messo lì eh Se lo sapevi usare Fuori magazzino Fucile di assalto silenziato Torna lo scar Silenziato Per la vostra gioia ragazzi Poi fucile di precisione Automatico Che sarebbe Quella sorta di DMR Con cadenza Che è stato aggiunto Che spara colpi medi Il fucile di precisione Automatico Non forniva grandi prestazioni In rapporto agli altri Fucili di precisione Queste modifiche al danno Durebbero renderlo Piallettante Come arma a lungo raggio Alternativo Il danno è stato aumentato Da 31 33 35 A 40 42 44 Quindi fa Ben 80 DHS 84 E 88 Non male Ci sta Still Il DMR È meglio Secondo me A mio parere È meglio Allora Il Bruto Ridotto Il tasto Di generazione Lec a vedere Cosa c'è Ora quando lendo Vedere quanti pompa trovo Se non vedo Autoshot Canna terra Mi incazzo Almeno Tre pampa Li devo trovare Ora Sì Ho un tac Però Hanno levato il combat Ma perché poi Cos'è l'improvvisa Gli è salito proprio No Non era Psicologicamente pronto Alle 8 di sera Questi tolgono Il combat Così Così Bella regà Abbiamo tolto il combat Va bene C'è rote il cazzo Il combat Basta Però ci sta Per me Serve Però un po' Che si trovi Dalle casse Che non sia Il combat C'è il Tac Or e Viola Ah c'è ancora Il tac Però è vero Che vuol dire Il tac C'è Vabbè ma il tac Non è così schifo No no Dico il tac Or e Viola Ah si si Ma forse il tac E' pure meglio Del combat Cioè del pump Scusa In questo pool We released Hot fixed Unbalance changes Due minuti fa Oh madonna Oh madonna Il magazzino Fucile pesante Da combattimento No Davvero Martina No Sì No Sì Sì No E vai di nonno Cazzo Sì Nonno è tattico Sì No 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 Che è mentre Sta diventata Sì Inoltre No 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 Ragazzi Hanno eliminato Il fucile A pompa Il combat Voglio morire Oh ti sta facendo una storia Io vado gli smg Aspetta Cildini li hai presi? No Brava Ma noi Andiamo Dai andiamo Giappe di aura Aspetta Io Io Aspetta Io 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 Ma non c'è il caso Io Io Prego Che cazzo Sì Martina Martina Sbapa 90 gradi Sono freddo come un pinguino Perché mi hai preso? Mi hai preso Dai Non mi ero accorta Che erano Cheat ragazzi Non si è coperta Comunque mi sembro un ritardato Quando smetto di giocare Per uno Sono più freddo di Non lo so Non mi ero accorta oh 3 yarder cheat ragazzi ma cosa mi ha colpito marty col pompa aspetta ah bel danno complimenti bello vero cosa rimpiazzare a una sicula bellissimo incredibile però perché non è così guarda tu rimpiazzi te la metto al primo shot bellissimo ... ... ... ... uhhhh this is unlucky oh yeah i'm uh no way oh i have no mass that's fine no 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 no